Donna Garmè, per noi partiamoci all'acqua con voi e non avremo privilegio. Piatevi che il soletto è più comodo. E piatevi che se sono come gli assai. Grazie. Per qualsiasi cosa siamo a disposizione. Che non tenete uno sigaretto? Se mi posso permettere in decondizione il vostro fumo non fa buono.